Buona giornata, sabato 30 luglio, apriamo una nuova edizione del TV Giornale di Telestense, edizione che tra poco apriremo parlando subito di un grave fatto di cronaca. C'è stato un omicidio nella notte in via Ortigara, vi diremo tra poco i primi dettagli ancora sommari di questo drammatico episodio, ma ci occuperemo anche dei batteri, batteri oltre i limiti, avrete sentito appunto la vicenda di cui si è parlato nei giorni scorsi, ebbene ieri è rientrato l'allarme, sentiremo la motivazione appunto della regione Emilia-Romagna. Oggi giornata importante però per tante persone, partenza per le vacanze per tanti italiani, quindi un weekend da bollino rosso, e poi parleremo anche di Covid, con dei dati tutto sommato positivi, perché sono in calo l'incidenza e l'RT. Ci occuperemo anche di siccità, c'è un progetto che riguarda il petrolchimico per ridurre del 40% il prelievo di acqua dal Po, e poi ancora, prospettiva, partono la seconda parte dei lavori lunedì prossimo, quindi ci saranno modifiche alla viabilità in corso Giovecca. Ci occuperemo del ricordo di Michelangelo Antonioni, scompariva proprio 15 anni fa oggi in questa giornata, e poi spazio alla SPAL con Tacopina che parla della nuova stagione. Ma come dicevo poco fa, parliamo subito parlando di quanto è successo questa notte, una notizia di cui siano ancora dettagli sommari, ebbene c'è stato un omicidio in via Ortigara, riguarda una donna di 62 anni che sarebbe stata uccisa dalla figlia 38enne. La vittima avrebbe perso la vita in seguito ad un avvelenamento, ma su questo stanno indagando i carabinieri che rilasceranno dai comunicati ricevuti ulteriori informazioni nelle prossime ore. Per cui rimaniamo il tutto al nostro sito telestense.it e ovviamente all'edizione delle 19.30 del nostro TV giornale. Parliamo adesso invece del caso dei batteri, di cui rientra l'allarme, la presenza dei batteri nelle acque del mare Emiliano Romagnolo, che aveva coinvolto varie spiagge, tra cui anche quella di Goro per quello che riguarda la provincia di Ferrara. Il tutto è rientrato, dicevo, nell'arco di 24 ore. Sentiamo il perché in questo servizio. Allarme rientrato nel giro di 24 ore. La regione rende noto che la balneazione in Romagna è sicura. I valori delle scherichi a coli risultano già ampiamente nella norma. Alle ore 15 di venerdì i sindaci hanno emanato l'ordinanza di revoca del divieto di balneazione per le spiagge interessate. Ci si interroga sulle cause dei dati anomali di martedì scorso, 26 luglio, quando i controlli effettuati come di consueto da Arpa E per garantire sicurezza e qualità della stagione balneare hanno evidenziato valori al di sopra della soglia. Questo si sarebbe verificato verosimilmente per la compresenza di una serie di fattori che hanno favorito la proliferazione batterica. Per la prima volta da decenni, Arpa E ha registrato, attraverso 12 stazioni dislocate sul territorio, temperature superiori ai 40 gradi per più giorni. Ciò ha influito su un innalzamento della temperatura del mare che è visto da mercoledì improvvise mareggiate dopo un lungo periodo di calma. A ciò si è aggiunta la scarsa ventilazione e la siccità con un apporto idrico dei fiumi al mare estremamente ridotto. Si è comunque trattato di un evento straordinario che in base alle serie storiche difficilmente potrà ripetersi, soprattutto d'ora in avanti con progredire della stagione estiva. Rispetto agli investimenti nel rinnovamento delle strutture ricettive e dei lungomare con la riqualificazione degli spazi urbani, proprio in queste ore è stato reso noto il dossier di Union Camera Nazionale Spiagge 2022 dal quale risulta come l'Emilia-Romagna sia la sola regione insieme al Molise ad aver deciso di continuare a rendere il distanziamento obbligatorio degli ombrelloni per garantire maggior comfort e tranquillità ai turisti. Insomma, messaggi decisamente rassicuranti quelli che arrivano dalla regione. Del resto questo è un weekend particolarmente importante, tanta gente che parte per le vacanze, quindi è il classico weekend da Bollino Rosso. Vediamo. Bollino Rosso in quello che è l'ultimo weekend di luglio sulle autostrade italiane. Sta per arrivare il mese di maggiore flusso turistico anche per il litorale comacchiese e le principali arterie potrebbero risultare particolarmente sature di traffico con code e rallentamenti. Nel weekend vi sarà lo stop ai mezzi pesanti, ma questo alleggerirà solo parzialmente la situazione. Nel dettaglio i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare, salvo autorizzazioni speciali, venerdì 29 dalle 16 alle 22, sabato 30 dalle 8 alle 16 e domenica 31 luglio dalle 7 alle 22. Le criticità peggiori tuttavia saranno quelle del prossimo weekend. Da venerdì 5 a domenica 7 agosto si arriverà a traffico da Bollino Nero su diverse tratte della rete autostradale, tra cui l'A14 che da Bologna porta verso la Romagna e verso l'intera costa adriatica. La presenza massiccia di turismo per quest'estate 2022 sembra comunque tenere alta l'allerta per tutto il mese di agosto. Le condizioni miglioreranno dalla fine del mese, quando si alleggerirà il controesoto e permetterà ai vacanzieri di settembre di godere di giornate più rilassanti. Intanto parliamo di Covid, notizie controverse, perché da un lato purtroppo registriamo ancora quattro vittime nel ferrarese, ma nel complesso migliora la situazione sia a livello nazionale che regionale. Sentiamo perché. Nel periodo che va dal 6 al 19 luglio, l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era 1,23. Quest'ultimo resta sopra la soglia epidemica. Lo indica il monitoraggio settimanale ISS del Ministero della Salute. L'indice RT, che ha raggiunto questa settimana il valore 1,03, aveva registrato un valore simile lo scorso 24 giugno, quando aveva toccato 1,07. La settimana precedente, il 17 giugno, era sceso toccando 0,83, mentre il primo luglio era salito a 1,30. Il valore massimo del picco di questa ultima ondata era stato raggiunto con un RT a 1,4 lo scorso 8 luglio. L'incidenza, ora a 727, era a 763 il primo luglio, mentre il massimo era stato raggiunto con un valore medio nazionale di 1.158 casi ogni 100.000 abitanti lo scorso 15 luglio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid è stabile al 4,1%, rilevazione giornaliera del Ministero della Salute del 28 luglio, dato pari a quello del 21 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 17%, dato al 28 luglio, rispetto al 17,1 del 21 luglio. Sono due le regioni con un'incidenza che supera la soglia di 1.000 casi ogni 100.000 abitanti, l'Abruzzo con un valore di 1.234,3 e le Marche a 1.118,1. Per l'occupazione dei posti letto in area medica i valori maggiori sono registrati in Umbria con il 44%, Calabria 36,1% e Valle d'Aosta al 35%. Per l'occupazione delle terapie intensive la Sardegna registra il 7,8% e tre regioni, Calabria, Lazio e Sicilia, raggiungono tutte il 6,3%. È quanto indica la tabella sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale ISS del Ministero della Salute. Intanto i casi di anni di Covid indicano 448 nuovi positivi nel ferrarese e 5.820 in regione, il tutto a fronte di ben 14.546 guariti. Sono 19 i dicessi in regione, di cui 4 nel ferrarese, una donna di 75 anni e tre uomini di 84, 85 e 91 anni. I pazienti ricoverati nella terapia intensiva della regione sono 49, di cui soltanto due nella nostra provincia. Infine, oltre alle quarte dosi, cresce il numero delle persone che hanno completato almeno il ciclo vaccinale, ora pari al 94,5% degli over 12 residenti in Emilia Romagna. In quanto a questo servizio avete dunque sentito parlare di quarte dosi, ebbene la quarta vaccinazione è importante soprattutto a tutela delle persone più fragili. Lo ha dichiarato il professor Mario Braga, epidemiologo dell'Ausl Ferrara, nell'ultima puntata di Filo d'Arianna. Ne vediamo un estratto in questo servizio. Chi si farà la quarta dose, quanto potrà rimanere teoricamente tranquillo? Allora, per quanto riguarda il futuro è sempre difficile fare delle previsioni. La comunità scientifica presume che a settembre-ottobre ci potrà essere una nuova variante e quindi una ripresa dell'infezione, anche legata a varianti di questa variante del Covid, cioè Omicron. Ricordo che sono già comparse altre varianti sempre legate appunto a quest'ultima tipologia di virus. Quindi l'attesa è che con la ripresa del freddo, con la ripresa della presenza in luoghi chiusi delle persone e con eventualmente la comparsa di nuove varianti ci possa essere anche una ripresa dell'epidemia a partire dall'autunno. Ricordo anche che le varie case farmaceutiche, in particolare Moderna e Pfizer, stanno predisponendo nuovi vaccini, i quali dovrebbero includere anche la presenza delle ultime varianti e quindi dovrebbero essere dei vaccini che danno una maggiore protezione contro l'infezione, vedremo se anche saranno più efficaci nei confronti della malattia grave e della morte. Adesso parliamo di un progetto legato alla siccità. Come avete visto nelle ultime ore c'è stata qualche timida pioggia che però ovviamente non ha risolto il gravissimo problema che sta colpendo tutto il bacino padano. Ebbene c'è un progetto per ridurre del 40% il prelievo di acqua dal po' per il petrolchimico. L'iniziativa è stata firmata dalla Comune di Ferrara, dalla provincia e da IFM, vediamo dal servizio di che si tratta. Migliorare il ciclo idrico per ridurre di oltre il 40% il prelievo dal po' dell'acqua necessaria al funzionamento del polo industriale tecnologico di Ferrara. E questo è il progetto bandiera dell'accordo sottoscritto da Comune di Ferrara, provincia e IFM in rappresentanza di tutte le società coincidiate nel polo. A conclusione del tavolo tecnico istituito dal Comune come capofila, a seguito di un ordine del giorno bipartisan votato all'unanimità dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale. Il tavolo tecnico si è insediato il 6 aprile e ha lavorato con una innovativa ottica di sito finalizzata a individuare progetti condivisi tra tutte le società coincidiate e gli enti territoriali utili ad abbassare il metabolismo basale dell'intero sito industriale e a migliorarne l'efficientamento energetico con ricadute positive direttamente misurabili sull'intero territorio. Una volta analizzate le criticità più impellenti, sono stati individuati 6 interventi di efficientamento energetico, tra cui il più attuale anche in termini di fattibilità è proprio il revamping del ciclo idrico, ossia un percorso di miglioramento dell'utilizzo delle acque necessarie al funzionamento del sito industriale che garantirà la riduzione del 40% del prelievo di acqua giornaliero, prelevati a profondità sempre maggiori a causa della siccità. L'accordo siglato garantisce l'impegno dei sottoscrittori per la promozione di tutte le progettualità emerse dal tavolo, al fine di facilitarne la realizzazione. A questo scopo il documento prevede anche l'inserimento dei progetti all'interno di ulteriori programmazioni territoriali, sia regionali che nazionali. I progetti verranno infatti promossi come parte integrante del progetto d'area che la Regione Emilia Romagna, insieme all'Università di Ferrara, andrà a sviluppare nei prossimi mesi, relativo all'indirizzo industriale futuro del Polo Chimico di Ferrara. Contemporaneamente, Comuni di Ferrara e Provincia si impegnano a individuare tempi e modalità utili all'avvio dell'iter per la realizzazione di un nuovo accordo di programma che contenga tra gli obiettivi la concretizzazione dei progetti condivisi dal tavolo. Adesso una notizia di pubblica utilità che riguarda tutti coloro che rimarranno in città anche la prossima settimana, perché dal 1 agosto prenderà via la seconda fase dei lavori sulla prospettiva che comporterà cambi alla viabilità in Corso Giovecca e non solo. Sentiamo. Prenderà via il prossimo lunedì 1 agosto la seconda fase dell'intervento di restauro programmato dal Comune di Ferrara al monumento settecentesco della prospettiva di Corso Giovecca. Iniziati a fine giugno scorso, i lavori hanno già interessato il corpo laterale di destra, lato Cittadella San Rocco, e ora per tutto il mese di agosto interesseranno il corpo centrale con la chiusura al transito del passaggio carrabile e l'istituzione di un percorso alternativo tramite l'apertura al traffico di via Caneva. In particolare, dal lunedì 1 agosto in Corso Giovecca sarà inibito il transito dalla prospettiva a Piazzale Medaglie d'Oro in entrambe le direzioni di marcia e i veicoli provenienti dal centro città saranno deviati sul percorso via Carlo Caneva-via Cisterna del Follo verso Alfonso Primo d'Este. Per l'accesso a Corso Giovecca da parte dei veicoli diretti verso centro città, compresi i mezzi pubblici, è invece consigliato l'utilizzo di via Rampari di San Rocco in direzione Fossato di Mortara-via Mortara. In via Caneva sarà modificata la viabilità attualmente in vigore con l'istituzione del senso unico di marcia da Corso Giovecca verso via Cisterna del Follo in tutto il tratto. E adesso ci dedichiamo a un ricordo perché proprio 15 anni fa, il 30 luglio del 2007, perdeva la vita Michelangelo Antonioni. La moglie Enrica Fico lo ricorda anticipando dettagli sullo spazio Antonioni che sorgerà a Ferrara. Sentiamo. La nebbia in cui perdersi, un deserto per ritrovarsi. A 15 anni dalla scomparsa di Michelangelo Antonioni avvenuta il 30 luglio 2007 a Roma, Enrica Fico, moglie del regista e tra gli ideatori dello spazio Antonioni che sorgerà a Ferrara e accoglierà una selezione dell'archivio del cineasta, lo ricorda tramite la Fondazione Ferrara Arte con i due elementi che più hanno contraddistinto il suo percorso umano e artistico. Nella casa in Umbria, sulle colline di Trevi, Enrica Fico ha rivisto Professione Reporter del 1975 con la nipote Silvana che studia per diventare regista e si sono confrontate su cosa rappresentasse il deserto nell'universo di Antonioni. È stato il suo elemento perché nel deserto si può scomparire, ci si perde ma lui ci ha insegnato che in quel nulla ci si può anche ritrovare, racconta la moglie. È un po' come la sua Ferrara, da giovane aveva la nebbia per scomparire da se stesso. E se l'è portata dietro? Quando faceva un film voleva annullarsi come uomo, non dare più ascolto ai problemi del quotidiano per dare invece spazio a una voce più profonda. Quando finalmente ha potuto smettere di raccontare la nebbia e non vedere niente è andato a cercare il deserto per vedersi e riconoscersi, riprende Fico ricordando il deserto rosso del 1964. Enrica Fico si ricollega anche al nuovo progetto che coinvolge direttamente Ferrara. Mi piacerebbe che lo spazio Antonioni fosse proprio un deserto da riempire di incontri, progetti, iniziative e collaborazioni. Vi sarà esposta anche una selezione dell'archivio Michelangelo Antonioni, il fondo di oltre 47.000 unità tra libri, dischi, pellicole, lettere, fotografie, premi, opere pittoriche e sceneggiature che il Comune di Ferrara ha acquisito dal regista e dalla moglie. Lo spazio, realizzato nell'attuale padiglione d'arte contemporanea, sarà diviso in aree con funzioni differenti per un pubblico diversificato e tipi di eventi eterogenei. Dobbiamo creare un comitato con i grandi artisti, aggiunge l'assessore comunale alla cultura Marco Golinelli, tra cui quelli che hanno lavorato con Michelangelo, da Scorsese a Wim Wenders. Studenti da tutto il mondo per approfondire le scienze alimentari. Succede a Piacenza, sentiamo dalle interviste di che si tratta. Dove vieni? Vara Lossesia, provincia di Vercelli, in Piemonte. Perché hai scelto questa facoltà? Perché è una facoltà che ha un sacco di possibilità e anche riguardo al futuro, all'ambiente è molto all'avanguardia. Vengo dal Messico, ho scelto l'Italia per l'industria del vino e per studiare scienze alimentari. Anche io vengo dal Messico, ho scelto l'Italia per la sua fantastica produzione di vino. Adoro l'Italia e il vino in generale, penso sia una delle migliori al mondo. Non vedo l'ora di imparare qualcosa in più su questo argomento. Sono di Milano, ho scelto questo corso perché offre chi prepara per il futuro, ovviamente, sia dalla preparazione del cibo fino alla vendita. Vengo dal Kenya, sono qui per formarmi e migliorare le pratiche nel mio paese. Ateneo e università sempre proiettati verso innovazioni e aspetti innovativi, come anche partire proprio dai corsi di lauree specifici? Ma assolutamente sì. La Cattolica già da alcuni anni si è impegnata all'erogazione di corsi di laurea o triennali o magistrali che sono erogati assolutamente solo in lingua inglese. Devo dire che in Cattolica noi abbiamo anche quella che rappresenta ancora oggi una novità assoluta, cioè abbiamo un corso triennale in inglese che si chiama Food Production Management che è dedicato a tutte quelle che sono le principali filiere agroalimentari. Chiaramente venendo a studiare a Piacenza non si può non parlare della filiera del pomodoro, del grano a padrano e dei formaggi in generale, non si può parlare ovviamente anche della filiera del vino. Da un lato noi siamo molto consci che specialmente per un ragazzo che esce dalle scuole superiori l'idea di affrontare un corso di laurea in inglese possa essere un qualcosa che spaventa. Il mio invito personale è di superare assolutamente la difficoltà per due ragioni molto semplici. Prima perché loro avranno in classe anche studenti stranieri, alcuni di questi madrelingua e quindi dopo un mese in cui saranno obbligati a parlare in inglese non ci penseranno più all'inglese. Ma la seconda cosa che è ancora più importante è quando loro andranno ad affrontare il primo colloquio di lavoro presentandosi con una laurea di lingua inglese direi che possiamo assicurare che saranno molto ascoltati. Spazio alla spalla adesso invece per parlare di quanto è dichiarato in questi giorni Tacopina in cui si è affrontata la nuova stagione con anticipazioni ma anche con un commento sul mercato. Vediamo. Cosa ci possiamo aspettare ancora dal mercato? Siamo in una situazione in cui siamo già pronti di fatto per iniziare la stagione e in questo momento dell'angolo del calcio mercato sono veramente soddisfatto del risultato raggiunto e di quanto siamo stati in grado di fare finora, di come ha operato il direttore e tutti i di aggiungere ulteriori elementi alla rosa, preziosirla ancora di più, ci faremo trovare pronti, saremo pronti ma come ripeto siamo in una situazione che ci consente di muoverci con tranquillità, io sono assolutamente fiducioso e tranquillo sul valore di questa rosa anche se la stagione iniziasse oggi e quindi ecco questa è la cosa che mi rende felice, non abbiamo di certo assili di intervenire ulteriormente sul mercato. Abbiamo visto in questi giorni il bilancio, è stato impegnativo riuscire a far quadrare i conti? Quanto è stato impegnativo? Ovviamente non è stata una passeggiata perché ho investito una grande quantità di fondi come avete potuto vedere, quindi sì ovviamente è stato impegnativo, però conosciamo bene il nostro progetto, sappiamo dove vogliamo arrivare e sono disposto a fare tutti gli investimenti che servono per raggiungere i nostri risultati, i nostri obiettivi che ovviamente sono obiettivi alti, quindi mi farò trovare sempre pronto a fare gli investimenti che servono e che sono utili a raggiungere i nostri risultati, quindi se devo dire è stato facile ovviamente è stato impegnativo, ma sono felice di quanto ho fatto e continuerò a lavorare in questo modo per alimentare sempre di più questo progetto e raggiungere i migliori risultati. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo teleSense.it e canali social per questi ulteriori aggiornamenti, per quello che riguarda invece il TV giornale ci rivediamo come sempre nell'edizione delle 19.30. Grazie per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.